amiche di unghie benvenuto in questo nuovo video allora qui l'immagine di del lavoro che vado a fare in questo video allora un po strano questo video perché praticamente le tre unghie che già avevo me l'ero già fatte per fare delle prove e poi ho detto ma no mi piacciono tanto queste unghie non mi faccio anche quelle altre due e ci faccio un videino allora utilizzerò le dual forma e comincio con l'applicare ultra bond primer avete visto l'inizio sull'unghia naturale e poi la hd base nylon quindi vado a fare il passaggio normale insomma che facciamo sempre e vado in lampada utilizzerò le le dual form e se non mi sbaglio queste sono le numero 04 di beauty space nails sono quelle con l'apice un pochino più presente perché quelle con l'apice troppo basso per il tipo di unghia che ho io non vanno bene che sto facendo qua con la dual mi sto andando a spingere un pochino il la parte del giro cuticole per dare anche un pochino la forma del mio giro cuticole come la dual e poi che cosa ho fatto ho allargato la dual perché quella del mignolo e a volte le trovo la misura giusta per il mio letto ungueale ma dopo si vanno troppo a stringere verso la punta e le mie mani le mie dita sono troppo grandi per questo unghia così fina fina non so se riesco a spiegarmi quindi ho allargato un pochino la dual per renderla meno stretta che sto facendo qui vado a rinforzare la zona dei punti di crescita perché con le dual uno dei problemi è anche questo che si assottiglia il prodotto nei nella zona dei punti a e b e poi ci sono delle spaccature specialmente per una come me che i miei laterali sono sempre finti perché io nasco senza laterali e quindi li vado sempre a ricostruire e per questo tipo di sistema io se non rinforzo i punti di crescita si spezzano c'è poco da fare quindi ho avete visto preso raccolto il prodotto dal barattolo direttamente con la dual e poi lo sto andando a sistemare quindi qui ho solo due unghie da farvi vedere però insomma spero che vada bene lo stesso ovviamente adesso comparirà la mia torcetta e ovviamente voi tutte saprete da dove proviene questa torcetta questa luce ditemelo nei commenti se sapete da dove viene dove la metto più che altro sta torcia va bene vado a sistemare la la parte sotto ovviamente della dell'unghia finale insomma con con il pennello e vado a dare un colpo di luce per bloccarla un attimino nel frattempo che faccio l'altra e poi le mando tutte e due in lampada grande qui la stessa la stessa cosa ho rinforzato i punti a e b e l'ho messa un 30 secondi in lampada la la dual e poi sto andando a riempire appunto l'interno della della dual e con questi agrigelle mi trovo tanto 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 bene ad utilizzare le dual perché non sono appiccicosi e perché comunque ormai è qualche tempo che sono usciti in casa di bsn ormai ce li abbiamo praticamente tutti li avete anche voi questi agrigelle perché so che in tantissime li avete comprati ed effettivamente sono dei gran prodotti è un gran bel prodotto questo agrigelle ok la stessa cosa faccio qui qui devo stare attenta a queste due dita centrali in particolare le mie perché sono anche storte si chiudono verso l'interno e quindi devo fare una leggera inclinazione verso l'esterno della dual per pareggiare un pochino visivamente la l'effetto estetico insomma l'effetto ottico della dell'unghia che non sia storta come il dito dunque vado a togliere eccesso di di prodotto come faccio adesso e appunto il fatto che questi agrigelle non sono appiccicosi per me è una cosa molto molto importante perché perché sì perché quando la grigelle appiccicoso è un po un po fastidioso ovviamente mando in lampada giro completo in lampada poi tolgo la dual e poi vado a limare vado a fare prima dai staccati staccati tac vado mi raccomando a togliere sempre la dispersione soprattutto sotto perché poi le punte si impappano di di prodotto vado a togliere quel piccolo bordino a sistemare il giro cuticole con la mia conetta questa punta la ho io se siete interessate anche solo curiose di sapere quali sono le cose che ho io mi potete scrivere in privato e vi giro insomma tutte le informazioni quindi vado a togliere appunto questo eccesso di 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 gel di agrigelle che è uscito fuori ma anche in questa fase questi agrigelle sono così particolari che anche in questa fase vedete che basta che tocco leggermente e lui già si toglie non bisogna fare troppa pressione non non sono fastidiosi da limare anche in questa zona che può essere un po più fastidiosetto con la lima mi vado appunto a creare la forma eccetera eccetera e ho fatto una specie di giochino su cric croc facendo vedere una facendo vedere queste unghie e chiedendo alle utenti di scrivermi nei commenti in che sistema avevo realizzato queste unghie se fosse stato con tip con cartina o con dual form e la maggior parte delle ragazze hanno risposto tip dual form fino ad ora non hanno risposto solamente in due e questo a me fa molto piacere sai perché perché praticamente si nota il mio tocco anche se sto utilizzando una formina una uno stampo preformato comunque con la limatura con varie cose sono riuscita a dare a queste unghie il mio stile almeno credo e questo mi fa molto piacere perché ormai vediamo queste forme lunghissime bellissime tutte uguali che ormai non sai più chi l'ha fatte perché tanto sono tutte uguali e quindi ecco questa che sto utilizzando per andare a togliere l'eccesso di prodotto da sotto e per crearmi questi laterali abbastanza sottili lo spessore ci deve essere quello giusto ma non devono essere neanche troppo grossi e con la dual diciamo che il problema tra virgolette uno dei tanti problemi che ci possono essere con le dual è l'eccesso di prodotto sotto questa non è la mia conetta ma è sempre una cono è sempre una cono un pochino più cicciottina e che mi aiuta a sbrigarmi più velocemente per fare questo questo passaggio quando ho un pochino più di di prodotto vado a bafferare bafferizzo la superficie e poi vado a fare un baby color uno sfumato con la spugnetta erano anni praticamente che non che non facevo questa cosa della spugnetta e devo dire che effettivamente mi è piaciuto il risultato prima di andare a fare tutto il decoro eccetera vado a mettere un po di bonder nel giro cuticole su tutta l'unghia mi crea maggiore aderenza questo è il gel un gel liner numero 12 come avete visto di bsn e con la spugnettina vado a raccogliere un po di prodotto e comincio a fare questo a spugnettare e quindi mi concentro ovviamente sulla punta per dare maggiore intensità e poi con la parte pulita con una parte pulita della spugnetta vado a sfumare un po il colore lo porto lo trascino un pochino verso la la cuticola per creare appunto questa sfumatura lo mando giusto in 10 secondi in lampada e poi la seconda passata di spugnetta è solo sulla punta per concentrarmi di più per dare maggiore intensità sulla punta visto che la sfumatura nella zona verso i diciamo punte di crescita mi mi è piaciuta così in questo modo quindi l'ho mandata 10 secondi in lampada raccolgo un altro po di colore e mi concentro solamente sulla punta di modo che appunto c'è questo effetto ottico della punta più scura e che si va sfumando verso la la cuticola lo mando in lampada giusto un 30 secondi perché poi tra l'altro questi liner polimerizzano molto velocemente essendo poi pigmentatissimi qui ho fatto in questo modo praticamente è un velo sottilissimo di colore bastano proprio 30 secondi con il bianco sempre di questi gel liner vado a fare questo piccolo fiorellino molto molto facile questo è un pennello di quelli per la micropittura non è un lingua di gatto è quelli sottili con la punta sottile e poi con la pancia vado a fare queste foglioline petalini eccetera dunque qui poi mando in lampada mando in lampada e poi volevo fare una un altro fiorellino vicino devo dire che la posizione non è stata favorevole perché pensavo di stare più comoda in questo modo invece mi dovevo girare perché praticamente stando in questa posizione il secondo fiore mi è venuto storto e quindi poi l'ho dovuto cancellare quindi qui mando in lampada mando in lampada questo passaggio poi provo a fare un fiore ma non è venuto benissimo allora ho cancellato e per cancellare tutto mi si è tolto anche un pochino del fiore prima ma anzi forse è stato anche meglio perché poi ripassandoci sopra mi da quell'effetto di un po tridimensionale dove c'era già il prodotto sotto quando ci metto quello sopra fa un po effetto tridimensionale vabbè dunque il pistillo lo faccio con degli strass quindi metto un pochino di gel colla metto gli strass e vado in a lampada adesso mi vedrete eh sigillare solamente la parte dei dei petali nella in questo dito qua nell'anulare quindi qui sto andando a sigillare solamente questa zona dei petali vado dentro dieci secondi e poi con questo sigillante matt effetto uovo rotto non mi ricordo più come si chiama questo effetto e vado poi a chiudere appunto tutto quanto il mignolo sarà tutto in questo modo invece l'anulare lascerò la parte dei petali bianca così insomma come quella che ho sigillato rimarrà lucida e l'altra parte della dell'unghia ci sarà questo uovo effetto uovo rotto no come oddio non mi ricordo comunque va bene lui che è tra l'altro comunque un sigillante matt questo qua mi piace veramente tanto ma l'ero dimenticato nel cassetto sto sigillante ed effettivamente è molto molto carino dunque vado in lampada quando sono soddisfatta i miei 60 90 secondi insomma dipende io tendo sempre a lasciarli un po di più i sigillanti perché comunque non succede niente quindi vado in lampada e poi questo ha dispersione quindi dobbiamo togliere la dispersione quando evapora il il cleaner viene l'effetto matt e questo è il risultato finale fatemi sapere se vi è piaciuto il risultato finale ovviamente questo spugnettato questo sfumato adesso lo farò in tutti i colori perché è veramente molto facile e quindi nulla io vi mando un bacio grande grande ciao iscriviti al canale